Carl von Frisch. Gli insetti padroni della terra? Con il punto interrogativo. Un vecchio libro pubblicato da Sugarco Edizioni che non si trova più. L'uomo si considera padrone della terra, dispone per il proprio piacere e per il proprio profitto delle sue risorse e degli esseri che ci vivono. Così facendo egli pensa troppo ai vantaggi che ne ricava oggi e troppo poco all'avvenire. Si tratta di una conferenza del 1958 fatta da Carl von Frisch, premio Nobel nel 1973 per la medicina e l'uomo che ha scoperto il linguaggio delle api. Le api comunicano, ma non solo le api, tutti gli insetti. È una conferenza del 1958 che dà il titolo a questo libro. Oggi si parla molto degli insetti come cibo, come cibo possibile, come cibo futuro, ma non ci rendiamo conto di quello che l'uomo sta facendo. L'uomo è in una situazione di estrema forza perché è il padrone della terra, ma al tempo stesso è in una posizione molto debole perché sta distruggendo pian piano il pianeta. Già negli anni 50 von Frisch aveva individuato questi temi. Questo libro è di una grandissima attualità, è un peccato che non sia stato più ristampato. È un libro che tratta delle api, ma anche dei pesci e naturalmente nell'ultima conferenza degli insetti. Perché leggere questo libro? Perché questo libro, oltre che parlare degli insetti, parla di noi. Parla della possibilità che gli uomini hanno non solo di distruggere il pianeta, ma di distruggere se stessi con questa potenza che hanno messo a fuoco con la tecnologia. Se non riusciremo ad avere un rapporto diverso col pianeta, noi ci estingueremo e fra milioni di anni, come ha detto Primo Levi, gli insetti saranno ancora qui, i dominatori del nostro pianeta azzurro. Grazie.